Età media 40 anni per gli abitanti di Veggiano, un primato in Veneto. Sono 4.748 i residenti del comune padovano, posizionato a metà strada dai centri storici di Padova e Vicenza. Forse anche questo ha convinto, soprattutto negli ultimi 20 anni, molte giovani coppie a risiedere qui. I prezzi delle case sono da tempo più bassi che nei comuni vicini. Il centro del paese è isolato rispetto alla Statale 11 ed è un vantaggio in quanto è immerso nel verde. La Padova a Vicenza resta esterna a Veggiano e ne attraversa solo la zona industriale. La recente espansione edilizia residenziale è evidente ma segue alcune regole. Non si sono mai costruiti condomini ma sempre un'edilizia legata alle bitri familiari, quindi legata effettivamente al territorio verde del nostro comune. E in questi ultimi decenni l'amministrazione ha perciò dovuto investire in opere pubbliche a favore dei veggianesi più piccoli. Pensiamo che Veggiano, pur avendo meno di 5.000 abitanti, ha un asilo nido da 30 posti che serve anche ai comuni limitrofi. Abbiamo dovuto ampliare negli ultimi anni le scuole elementari e le scuole medie. Abbiamo appena ultimato e inaugurato una nuova biblioteca che si trova proprio all'ingresso del paese. Questo è un po' il nostro fiore all'occhiello e la ciliegina sulla torta se così vogliamo dire. Veggiano, paese di acque attraversato da Tesina e Bacchiglione, si è risvegliato più giovane dall'incubo dell'alluvione del 2010. Per fortuna abbiamo anche comunque avuto degli interventi molto importanti sia da parte del genio civile e quindi dalla regione, un innalzamento delle arginature sia lungo il Bacchiglione che lungo il Tesina. Abbiamo quindi sempre un occhio di attenzione ma per fortuna gli ultimi interventi ci fanno anche dormire a sonni tranquilli.